che sta lasciando i concorrenti, parte piano Rudolfo, parte piano Rier, di Galoppo, Raio di Ruggi che finisce fuori corsa, lo scambio esterno di Ries Verinais al quale rispondono Zinante Graal e Rinaldo MP che cercano le posizioni in corda al paletto di 200, frazione in 13-6 e in vantaggio Ries Verinais mentre di fuori Rinaldo che prova a proporsi sulla iniziale battistrada. Vediamo se sarà il via libera, l'attacco di Rinaldo MP con Antonio Greppi, quarto in 29, per il momento non si passa, Resana che ha fatto le sue chance a Rinaldo MP che però rimane scoperto, Ries Verinais corre davanti, nel scelto di quello all'esterno andrà subito Ribes Nero e poi in corsi esterno anche il 10 di Ryan Kronos in terza pariglia, i 646 all'interno di Ryan Kronos, Ceri di Teddy K.E. numero 9, per il scelto di Pederoba, intanto il rallentamento di Ries Verinais, Rinaldo MP che si porta quasi a sbagliare completamente il battistrada, quarto intermedio in rallentamento, 31-4 la seconda frazione, Ries Verinais al comando, Rinaldo MP di fuori, poi ancora una coppia, Ronzinante Egral che difende le chance di Villorba e Ribes Nero che difende invece soltanto quelle della propria scuderia, viene via Ryan Kronos dopo il chilometro, lo scatto dell'allievo di Andrea Falki al quale risponde ovviamente Ribes Nero, reagisce da lunga in coppia con lui, 4-8 l'ultima curva, la corsa spettacolare ma sta passando con parziale per il momento superiore Ryan Kronos, è riuscito a scavalcare in 33 anche Ribes Nero, rimane in mezzo alla pista un po' sorpreso sullo scatto ma passa secondo sul callo di Ries Verinais e la stancione comprensibile di Rinaldo MP, mentre si muove anche Ronzinante Egral, addirittura arrivo dopo l'ultima curva in 15-6, cavalli che sono ai 150 finali, ampli in sua margine, Ryan Kronos si dimostra un buon cavallo, altrettanto fa Ribes Nero che fa il secondo, aumenta per il terzo, il numero 2 di Rinaldo MP, tiene a base 1 di Ronzinante Egral, tutto questo con la chiusa in 29-1, davvero eccellente per il vincitore che trotta a Boen sotto all'1.15, probabilmente 14-7, 14-8 con l'arrotondamento del tabellone, il numero 10 di Ryan Kronos largamente al palo, Andrea Farolfi per il training di Andrea Sazzetto, il valore della scuderia Viking Management, il secondo del numero 3 Ribes Nero e poi per il terzo, probabilmente il 2 di Rinaldo,